Bella vecchi travani, siamo il vostro caro... Grana, grana padana, ruspe Bella vecchi travani, ma sono qui su KakaGranas e oggi siamo qui con un video suggerito da voi Perché noi vi ascoltiamo, ci teniamo a voi, vi vogliamo tanto bene Un video dove guarderemo i nostri video non a 0.5 ma con i sottotitoli Per vedere YouTube che cazzo di problema c'ha a livello traduzionale Diteci subito, se siete interessati, noi vedremo i video degli altri YouTuber Tipo di Melaco, tipo Frazz, Dread, questi qua A 0.5 in un prossimo episodio Se questa cosa vi interessa arriviamo a 10.000 like su questo video E faremo in che video degli altri a 0.5 Quindi vediamo anche gli altri fatti Il titolo sarà tipo Dread e Frazz fatti Che poi, vabbè, cosa vera Vabbè, possiamo partire, io direi che... Siamo da quello horror di domenica Scorsa, cioè scorsa No, non possiamo andare No Finisce la serie Ma che cazzo Ma grazie maestro Il gioco di oggi Mi devo dare i ricordi perché adesso non riesco a parlare Cazzo ne riesco a parlare Perché era questo il gioco Shrek is love, Shrek is life Order E l'inizio è ancora più horror Edizione ancora di ormoni Epica Dio 2013 Dio 2013 Sì, sì, esatto Allora, dobbiamo prendere le cipolle Olive Giusto Seguiamo il sentiero La prima cipolla, eccola qua L'havamo presa pure prima Ad Arezzo Ad Arezzo, sì, sì Beh, abbiamo fatto in strada Hobby Store Picazzo Cazzo Amante? Ma che ha parlato? Domani Odi inquietante Perché piante parla C'è Shrek punishment barrel C'è Shrek là dentro? No, penso che ha due puniti Tutti gli gini I porazzi e Virgilio non possono giocare Spero te no Spero te no Notte delle streghe 2 La ginecologa mi ha detto Parma Niente sotto di vita Aveva detto che non avrei potuto fare Trovare torrento l'andream weaver Miocchi azzurri Sembra che siamo fatti Sì Fatti i cazzi 15p No, fatti Però C'era un video dove io mi tagliamo Cerchiamo la figa Era questo qua Aspetta Oh, questo qua l'ha preso Sì La gire da occhi gratis Sì Se questo qua lo mettiamo a velocità 05 Adesso è cominciato lo spettacolo, rega Sette gold Il peperocino Grandissimo Che cazzo Nel peperocino Il peperocino Incello Pesce 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 bravo no le ramone questo è un nome da strappona la birra andiamo a costruire il nostro personaggio allora deve essere un personaggio provocante questo è il viso sicuramente eh l'isola libertaro e beh le isola libertaro che sono importanti broca diretta, torre canadese e danza idrosan idrosan facile, asian, asian capito? categoria asian nazista haifa wabi si sta i have been in love uk molto non voglio fare i compi fare clic su un milione di video dimmi quanta gente vorrebbe fare clic su un milione di video quello che volete abbiamo parlato mail cioè è easy sapete che non ce la faccio a dimagrire se lo metto hotel for docenti capito? in the panchile hotel for docenti tipo quelle ragazze tipo quei pagine in mezzo in inglese no com'era? cinemax.ro è stato no è stato sottoposto a cosa causa penale ma che è brasiliano? no è romeno ah è romeno ah beh si basta le bruttane SOMATOLINI E MEEE cosmetik mail qua torna sul porno ehm mettiti a 90 pure diselo pure diselo pure diselo e che posizioni ti piacciono scrivi e poi e poi e poi sarà cura 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 e poi non so decidere mamma mia dai cara e questa è una ritorna domanda per teggiore per fallita coloro sborra RIRDI con le mani di riti e castagni piedi o arretare a castagni e macchine da caffè è giusto onesto eh si ma tu sei uomo o donna facebook caso è nuovo hai scritto donna vestito da banana aspetta che controllo bocca vuoma e giusto ma che cazzo vuol dire ma schivuto con lo stato 2009 eh si con lo stato 2009 angolo della boccasini se non è il colosseo nel 2009 era tutta un'altra cosa eh si si ti riguardi i bei tempi eh porco 2 il colosseo magnifico sintomi di atti sintomi di atti e quella era sicuramente una bestiglia raga aspetta che manca il insurato è vero Ambrosini è tornato dall'an di là giusto è meglio verbo 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 ma perchè Adesso quando si chiama questa squadra non dovete più dire goooore ERBO L'ho metto sugli porn in sto video Siii Se una ragazza è virgine delle grazie Oggi siamo... vediamo Set the fire in the rain via casola delza Se una come se riesce a lion Oh rainbow, rainbow, rainbow Boker digital Oh rainbow Percorso di un posto Ecco Perfetto va via Grazie per la tesina iphone Grazie Bene, non mi grazie Kurtzivar E' il giornale Aspetta Armorea Buon giornale E' un mare Che schifo E' proprio uno schifo d'uomo dai Oddio aspetta No, io vedi a 0,5 Aspetta ecco ecco Eccola Guarda guarda come sta ma le stai stanno fanno seca Guarda 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 E' un po' di libero Vediamo la la Sì E' un po' di libero Ma la e' un po' di libero Tipo The Thread, Flax e cazzo, compagnia bella Se questo video vi è piaciuto, niente, arriviamo comunque a 10.000 like Lo riprenderemo Sì Tutto Tutta quanta Tutto, tutto Sto pezzo andrebbe rivista a 0,5 Ma popo tutto Ma popo 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 Ma zuzzo Vabbè Grazie a tutto Ciao 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 mamma, guarda come mi diverto